Ciao Stelline, bentornate sul mio canale e oggi faccio un video speciale per i 100 iscritti lo so, siamo già 102 ma mi ne sono ancora da solo prima e voglio farvi vedere il tour della stanza dove registro gli episodi e... niente, non me l'ho mai fatta vedere in tutti questi anni e iniziamo allora, qua iniziamo questa è la stanza di Nana qua c'è quella di Luna lì c'è la scuola non guardate perché è fatta così e è stata mia sorella Chiara l'ha distrutta non si sa il perché l'ha fatta apposta, me l'ha detto e... qua c'è il cordoglio della scuola qua c'è la camera di Millie tutte queste stanze le ho fatte io mentre lì c'è la casa delle Barbie che uso anche per le LOL questa è la stanza di Julie lì c'è la cucina per il momento smontata perché appunto Chiara ha fatto casino queste due stanze non le uso per adesso qua c'è la ringlade perché appunto ultimamente l'ho usata per fare i video qui qua ci sono tutti i vestiti delle Barbie e vari oggetti e qui c'è il fatidico armadio dove tengo tutta la roba ecco qui tutta la mia roba allora, qui c'è un seggiolone che usavo per le Barbie qua c'è Claudio, Luna, Alexander lì c'è la mamma di Luna e Nana qua ci sono le LOL che non uso più qua ci sono le LOL della serie nuova qua dietro ci sono Nana e Emma se vi chiedete perché sono lì è perché mia sorella è gelosa che ho comprato queste cose me le rovina intendo Arianna, non Chiara e infatti lei, Mia, che è stata la mia prima LOL Twins mi ha spettinata tutta qua c'è Natasha qui c'è Sabrina poi questa è la scatola degli oggetti delle LOL qua ci sono tutti i vari oggetti qua ci sono oggetti qua ci sono cartoni, sfondi roba che tengo per fare le stanze insomma questa è la scatola del LOL Remix qua anche questa è della LOL come si chiama? Under come si chiama? Under insomma che nella serie è la mamma di Millie under wraps confetti pop una serie così qua ci tengo lo slime perché che uso per fare ASMR lì c'è la scatola degli oggetti delle LOL lì invece c'è carte scatole che posso usare vabbè non guardate questo perché ci mette anche della roba mia madre qua ci sono vari accessori questa qua c'è una cupcake surprise che non c'entra niente qua i fiori che uso per il parco là una scatola di Amazon che tengo per fare le stanze lì l'armadio di Barbie che non uso più qua ci sono tre altre sono i miei quadri che faccio sopra ci sono le checklist che uso per le storie con le LOL piccole e niente qua c'è un altro quadro lì c'è del Pongo che non uso questo è sempre un armadio delle Barbie infatti gli appendini qua ci metto le bolde e le LOL e passiamo a sotto qua c'è un po' di casino oh cavolo allora qua ci sono c'è questa casa non è delle Barbie qua c'è il chiosco di gelati delle LOL cucina delle LOL Barbie cioè questa è delle Barbie scusate macchina delle Barbie negozio delle Barbie un piccolo albero di Natale moto qua ci sono le scarpe getti delle Barbie Barbie qua tutta roba delle Barbie qua non è una cucina di altro cosa delle Barbie macchina delle Barbie qua ci sono le stanze che uso tipo queste qua ritaglio delle cose le metto nelle stanze tipo la borsa questo lo userò per le stanze future qua ci sono altri oggetti di Barbie cose così qua sinceramente non so ci sono altri giochi perché questo armadio prima lo usavo mia madre poi io ho iniziato a usarlo e anche adesso non è completamente mio e niente poi qua c'è la carrozza delle Barbie con i cavalli che sono sommersi intanto non li uso ok per questo basta poi c'è qua scusate devo spostare la ring glide ecco qui qua c'è la casa di Millie qua c'è la LOL di mia sorella che ho usato per la serie di LOL LOL Broadway che prima quando erano qui e adesso non penso se la userò ancora qua ci sono dei giochi delle mie sorelle qua dei vestiti qua un tappetino che usavo quando facevo kickboxing qua giochi vari c'è il mio skate che non uso più il skate di mia sorella Arianna racchette un portafoglio distrutto questo sole l'ho fatto all'asilo questo c'è la cosa di una scatola che adesso è di là non vi faccio vedere perché c'è un casino poi vabbè qua in questi cassetti c'è ci sono dei vestiti di mia sorella Chiara o Barbie che mia sorella Ari non vuole far usare ma tanto lei le Barbie non le usa perché non gli piacciono infatti non capisco perché le prenda e niente qua c'è quello lì c'è una carrozzina lì ci sono gli smalti un puzzle quadro questo cioè qua una volta dormivo io da piccola poi mi sono messa su quindi questa stanza è rimasta vuota e noi lo diamo per i giochi io vi voglio ringraziare per aver raggiunto i 100 iscritti e insomma spero che questo video vi piacerà so che non tutti seguite la mia serie con le LOL ma comunque insomma grazie vi voglio bene a tutti i miei 102 iscritti anche chi guarda i miei video e non è iscritto però vi vorrei più bene se vi iscriveste grazie niente lì ci sono altre Barbie e niente una volta mi ho avuto in mente ho detto perché non faccio vedere dove registro le stanze poi ho detto ma vabbè sono quasi 100 iscritti lo faccio per quello infatti ho aspettato e niente li ho raggiunti e quindi ora lo faccio oggi avevo intenzione di fare il tiktok dove spiego come va a scuola però poi ho visto che sono 102 iscritti ho dovuto farlo quindi il tiktok vedrò quando ho tempo perché ho un programma di fare altri episodi domani domenica quindi vedo tanto non è che c'è proprio fretta poi volevo far vedere qui che ho fatto una finestra e qui attaccherò dei cartoggi di neri per fare le persiane poi quello lo riparo ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao grazie ancora